Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi, amici miei, come potete ben vedere, ci troviamo sempre qui su Skyrim in questo sabato mattina, infatti mi sono appena svegliato Cosa vuoi, sculi, cosa vuoi? Non voglio niente, non voglio sapere cosa prevede il menu e neanche che sei molto maturo per la tua età, ma che opzioni di dialogo sono queste? Anche se dove posso imparare di più sulla magia potrebbe essere interessante ma vabbè, non perdiamo tempo, sculi, non voglio nulla Ci vediamo, arrivederci, stavamo dicendo In questo sabato mattina, insieme alla nostra bellissima e affascinante Eidis ci troviamo nella locanda di Roldan Vecchia dove abbiamo, ormai settimane fa, svolto la missione del fantasma Non avete visto il video? Cosa aspettate? Al massimo ve lo lascio in alto qui nelle schede e andatelo a vedere Per quale motivo siamo qui oggi? In un video, ragazzi, che sarà veramente breve, ma concentrato di mistero Un mistero che sicuramente non eravate a conoscenza Per il semplice motivo che è molto difficile da trovare Perché non è marcato sulla mappa Ma prima di iniziare, come sempre, in questa bellissima giornata Non è vero, è pieno di nuvole Io vi ricordo che se state apprezzando i miei video e vi piacciono Di lasciare un like, aiutarmi con un commento Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Mi raccomando, attivate la campanellina Vedete, ve l'ho appena detto, anche il mio unicorno Fatelo, mi raccomando, che mi date una grande mano in tutto ciò Ora possiamo iniziare andando a vedere, come sempre, la mappa Questa è la posizione in cui ci troviamo Roldan Vecchia Praticamente si trova vicino a Roriksted Ho scelto questo punto per arrivare effettivamente nel luogo che a noi interessa Prima di tutto, per iniziare, posizionatevi davanti alla locanda E portate la vostra visuale sulla sinistra Cercando di puntare il nord sulla mappa Sulla bussola più che altro Come potete vedere, tra queste due montagne, tra queste due pareti rocciose Ci sta un vicoletto, una stradina A noi non ci resta che percorrera Arriverete a questo punto con un albero E questa sorta di piccolo monumento composto da pietre messe una sull'altra Voi dovete andare alla sinistra di questa piccola struttura Seguendo sempre la strada Come potete ben notare, in mezzo alle montagne troverete sulla vostra sinistra un altro di questi monumenti E voi, nella massima tranquillità e serenità, continuate a camminare Fino ad arrivare a questo punto Vi ritroverete in questa parte della montagna un po' più rialzata Con a destra un altro monumento E lì in fondo troverete un accampamento Un accampamento con dei cadaveri Si percepisce anche del sangue Una lanterna accesa Un fuocolare acceso E ci sarà anche un nemico Una bestia In questo caso un animale Un orso Che generalmente può cambiare Non è sempre un orso Ci potrebbero essere anche dei lupi Voi cosa dovete fare in questo caso? Prendete tutto o è gigantesco questo orso? Cosa ha mangiato? Non lo so, avrà mangiato quei cadaveri Mamma mia, è enorme Cominciamo ad attaccarlo con il coltellino Mamma mia, non ci facciamo nulla Mi sa che ci tocca farci aiutare da uno stregone Uno stregone scheletto In realtà due Andate nei piccoli brodi Andate nei piccoli cavalieri Poi perché cavalieri? Non sono cavalieri Guardate il danno che fanno all'orso delle caverne Che poverino è lì Castrò tra le tende Era troppo enorme Non riusciva più a passare Andiamo a vedere cosa ha con sé Artigli di orso E della pelliccia di orso delle caverne Molto buona Teniamo tutti questi oggetti Vediamo un po' Esploriamo Prima però apriamo la mappa Così potete capire effettivamente Con il percorso che abbiamo fatto Dove siamo arrivati Esattamente qui Noi eravamo a Roldan Vecchia Abbiamo fatto tutta questa strada tra le montagne Ora non ci resta che esplorare Cercare un po' di capire cosa è successo In realtà il fatto di cosa è successo Possiamo ben notarlo in questo momento È arrivato quest'orso E ha attaccato due persone In realtà è una coppia Una coppia di amanti Stiamo parlando di questa donna Bretone E di un altro personaggio Di un uomo Un uomo che come lavoro faceva il minatore A Markarth E voi vi starete chiedendo E dove sta il corpo? Ragazzi In mezzo all'erba Nascosto qui Tra l'erba alta Troverete il cadavere Di Talvur E con sé ha un'ascia di ferro Un anello d'argento Che recupererò Dei semplici stivali Delle vesti E un cappello Si teneva alla moda il ragazzo Un piccone E da questo potete ulteriormente capire Faceva il minatore E un semplice pugnale di ferro La cosa interessante però È il ritrovamento di un diario Come potete notare Oltre a questo bellissimo focolare acceso Con delle carote Del cibo Questi due amanti sono stati attaccati Proprio nel momento in cui Secondo me Erano lì per mangiare Per nutrirsi Per pranzare Cenare Non lo so A che ora è successo Tutto ciò Anche qui su questa roccia Altro cibo Un boccale Un bel piatto E delle patate cotte Possiamo però anche notare Una borsa delle spezie Con un altro addomi di lucciola Ormai in queste borse Troviamo solo addomi di lucciola Recuperiamolo Ma quello che a noi interessa È il diario Di Karan Andiamolo a leggere Ottavo giorno Della gelata Oh Talvur Mio caro dolce Talvur Non riesco a smettere Di pensare a lui Dal momento in cui Ho apposato Lo sguardo su di lui Al mercato Il mio cuore è impazzito Tuttavia mio padre Non mi permetterà mai Di sposare un cittadino Men che meno Un povero minatore Dunmer Mara Cosa devo fare? Come potete ben notare Da quest'ultimo pezzo Fa riferimento A Mara E dopo scopriremo Il perché Di questo aiuto Ci sarà un qualcosa Di molto particolare Continuiamo a leggere Undicesimo giorno Della luce dell'alba Un'altra lettera Di Talvur È già la terza Questa settimana Mi scrive Di non poter vivere Senza di me Che preferirebbe morire Piuttosto che Perdermi per un altro O è esattamente Ciò che provo per lui Non posso sopportare Questa situazione Ancora a lungo Prima o poi Mio padre Lo verrà a scoprire Le serve Sono tutte agitati Per il mio amore segreto E sicuramente Si lasceranno scappare qualcosa Quando succederà Talvur e io Dovremmo già essere lontani O mio padre Gli metterà contro Tutti gli eserciti Del Reach Ventiduesimo giorno Del primo seme Ho convinto mio padre A portarmi con lui Nel suo prossimo viaggio A Est Quando raggiungeremo La locanda di Roldan Vecchia Me la svinierò di notte E andrò da Talvur Sulle colline Sopra Soljund Molto interessante Questa cosa Che ho cercato Di realizzare i video In modo tale D'aver avuto La possibilità Di viverci Sia Roldan Vecchia Nel video appunto Del fantasma E sia ultimamente Soljund Con il ricettacolo Dove abbiamo Sconfitto Tutti quei Draugger Continuiamo Talvur Dice di aver messo Da parte La sua paga Degli ultimi mesi E di averla nascosta Nel vecchio tronco Lassù Con quei soldi Dovremmo riuscire A pagarci Un passaggio Verso Riften E verso la nostra libertà Oh amore mio Non vedo l'ora Di riabbracciarti E così Amici miei Finisce Questa breve storia Di questi Due amanti Questi Due ragazzi Che si amavano Ed erano pronti Per imbattersi In una nuova avventura Lontani Dalla città Lontani Dal padre di lei Che voleva Assolutamente Dividerli E non sarebbe stato Mai d'accordo Di questo fidanzamento La nostra amica Fa riferimento A dei soldi A degli oggetti Che il nostro Talvur Ha messo da parte Vicino Ad un tronco rotto Ad un tronco spezzato Ed eccolo qui Vicino Alla tenda Troverete Questo albero Distrutto E all'interno Ci saranno Dei oggetti Una borsa di monete L'oro che gli serviva Per fuggire 96 pezzi d'oro Per l'esattezza Una gemma Dell'anima minuta E uno zaino Uno zaino Con all'interno Tutto ciò Che gli serviva Per fuggire Quindi del cibo Un cavolo Un libro Che la cultura Serve sempre Una pozione Di cura vigorosa Un anello d'oro Con zaffiro E delle vesti A fianco allo zaino Ci sarà anche Una semplice spada Di ferro Giustamente Gli sarebbe potuta Servire Per difendersi E poverini Non ci sono riusciti Perché è arrivato Quest'orso E li ha Praticamente uccisi Qui non c'è nient'altro da fare In questo momento Però non è finita qui I segreti continuano Per quale motivo? Perché una volta Che voi Avete recuperato il diario Avete recuperato il tesoro E deciderete Di aprire la mappa E allontanarvi Da questo posto Ad esempio Diriggiamoci a Roriksted E una volta giunti Cos'è che dobbiamo fare? Semplicemente Dobbiamo far passare Del tempo Quindi Ci mettiamo qui Ci chiederà Quanto vuoi aspettare E mettiamo 24 ore Una volta che avete fatto passare Quindi queste 24 ore Non ci resta Che tornare Nel luogo di prima Nel luogo Dell'accampamento Dove sono morti Due amanti Una volta tornati Ci accorgeremo Che qualcosa è cambiato Lo si può già notare Praticamente È tutto scomparso Non ci sono più cadaveri Non c'è più il sangue Il fuoco è spento Non ci sono neanche più le tende Nulla Di tutto quello Che avevamo appena visto E c'è un'altra cosa però Una nuova giunta Che è andata a sostituire Tutto quello che non c'è più E stiamo parlando Di questo piccolo santuario E guardate un po' A chi appartiene Proprio a Mara Quella Mara Che è stata nominata All'interno del diario Della Bretone Potete usare giustamente La benedizione E chiedervi anche Il perché Ora è qui Chi ha spostato Tutti i cadaveri Dove sono andate le tende Dove è andato Tutto il resto E perché Il tempio di Mara Forse perché Tra i comandamenti di Mara C'è quello che prevede Di onorare la casa La famiglia Preservandone così La sicurezza e la pace Non lo so amici miei Esattamente il perché Ci stanno solo questi Piccoli riferimenti Che vi ho mostrato E vi ho fatto notare All'interno di questo video Quindi sta anche a voi Aiutarmi nei commenti A capire questo mistero Che molto probabilmente Come ho ripetuto all'inizio Come ho detto all'inizio Non eravate a conoscenza Detto questo Io posso Salutarvi qui Lasciarvi con questa Piccola curiosità E anche Con un nuovo santuario Alla vostra collezione Io come sempre Amici miei Vi ringrazio E vi ricordo Di lasciare un like Un commento Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E ci vediamo In un prossimo video Ciao